Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì, primo giorno di aprile, assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo ad opera di una perturbazione artica che scivolerà sull'Europa occidentale e irromperà nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Quindi faremo i conti con una tipica rodanata invernale, figura di maltempo che manca da diversi mesi in Italia. Questa perturbazione quindi darà vita a una depressione tirrenica che porterà precipitazioni abbondanti al nord sul lato tirrenico. Ma anche in Abruzzo avremo una giornata piena di maltempo con precipitazioni più presenti nelle aree interne, sull'Apennino e avremo anche un costante calo delle temperature che avrà ovviamente effetti importanti sulla quota neve. Difatti la neve tornerà a scendere a quote relativamente basse per il periodo, entrosera almeno attorno ai 900-1000 metri, poi fiocchi di neve che nei prossimi giorni potrebbero scendere anche più in basso. Piogge sulle coste del primo entroterra seppur con qualche pausa asciutta. Temperature che tenderanno pian piano a scendere, specie nei valori minimi. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.